Ciao a tutti, mi chiamo Marika, ho 33 anni e sono qui dalla dottoressa Trabucco, direttamente da Londra, per un problema che è iniziato qualche mese fa, legato al reflusso gastro-osomageo. Io ho cominciato a stare male subito dopo Natale, con queste fortissime extrasistole che mi hanno reso la vita un incubo. Erano così tante che non riuscivo a dormire la notte, non riuscivo più a mangiare, non riuscivo più a lavorare, non riuscivo più a fare niente. Quindi, molto spaventata, mi sono rivolta a un cardiologo inizialmente, che mi ha fatto fare tutti gli accertamenti del caso e nel frattempo, prima di avere i risultati di questi accertamenti, mi ha dato da prendere una medicina per rallentare un po' questi battiti. Ho provato a prenderla per un paio di giorni, ma non essermi caliente, anzi mi dava degli effetti collaterali incredibili. E nel frattempo poi sono arrivati i risultati degli esami cardiologici, che dicevano che il mio cuore era sano, ma anche questi extrasistoli c'erano, erano tanti ed erano benigni, di natura benigna, che quindi probabilmente poteva essere legato a un problema di reflusso. Quindi mi sono recata da, sempre a Londra, da un gastroenterologo, che mi ha fatto iniziare subito una cura a base di gastroprotettore molto molto forte e antiacidi da prendere quattro volte al giorno, quindi dopo ogni pasto e prima di andare a dormire. Ho fatto questa cura per un mese, ma i sintomi non cambiavano, anzi, a un certo punto sono anche peggiorati. Ero disperata, anche perché eravamo in una situazione di lockdown, quindi io non potevo in quel momento tornare in Italia, ero veramente disperata, la mia vita è stata rovinata per tutto quel periodo, ma nel frattempo avevo visto, mi ero documentata in realtà sin da subito su internet e avevo trovato su internet il centro della dottoressa Trabucco. E da subito, anche se stavo facendo questa cura con gastroprotettore che non stava funzionando, io ho sentito subito che qual era la strada che dovevo perseguire. Quindi ho avuto un attimo, ho dovuto avere bisogno di organizzarmi, diciamo, logisticamente per poter tornare in Italia. Sono tornata e la prima cosa che ho voluto fare è stata venire qui a Roma dalla dottoressa. Prima di arrivare dalla dottoressa in realtà ho comparto un libro, perché era la mia speranza per tamponare quel momento molto difficile, diciamo, di poter vedere la dottoressa dal vivo. E devo dire che, sembra un miracolo, ma appena ho cominciato gli esercizi di respirazione, il primo esercizio, dallo stesso giorno le esercizioni sono sparite. Cioè sono come sparite e sono comparsi molto più forti a tutti gli altri sintomi legati quindi al reflusso, quindi mal di stomaco, il fatto di non riuscire a mangiare, stomaco gonfio, però il sintomo principale che non mi faceva venire la notte è quello scomparso. Sono venuta dalla dottoressa, abbiamo cominciato il percorso e ovviamente ci sono degli alti e bassi, ma devo dire che il beneficio che ne sto traendo è inimmaginabile. È un percorso lungo, è un percorso impegnativo perché ci si deve impegnare molto dal punto di vista degli esercizi, dal punto di vista della limitazione. È proprio un cambiamento di stile di vita, ma anche mentale. Io ormai non lo sto vivendo così che una persona deve fare, verso la corrigione. Quindi sto decisamente meglio, non c'è paragone con mesi fa, mi sento orinata, so che c'è ancora della strada da fare e so che probabilmente ci saranno alcune cose, alcuni accorgimenti che dovranno fare parte del mio stile di vita, ma poiché queste cose mi stanno facendo stare bene, ho intenzione di inserirle nella mia vita quotidiana. E quindi vorrei dire un grande grazie alla dottoressa e lasciare questa testimonianza per tutte le persone che possono aver avuto un problema simile all'io, perché quando io stavo male le persone mi dicevano che erano magari frutto della mia immaginazione o che esageravano, quindi qui troverete un posto dove tutti i vostri sintomi possono essere veramente capiti e compresi e aiutati. Grazie.